Tutto pronto per il ritorno in città di Eco Festival, l'edizione 2024 illustrata in un'apposita conferenza stampa da Monica Caradonna, ideatrice di questo contenitore che promuove le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Tanti chef provenienti da ogni angolo della terra si confronteranno qui in terra ionica per raccontare, secondo la loro interpretazione, le nostre eccellenze. Torniamo dal 10 al 12 maggio qui a Taranto con 10 cuochi che arrivano da tutto il mondo, da Singapore alla Francia, dal Portogallo alla Grecia. Arriveranno qui a Taranto 25 pizzaioli, 10 grandi cuochi tarantini e ci sarà veramente un melting pot, una grande contaminazione di cultura gastronomica. Il food che unisce? Sì, il food che fa cultura, il cibo consapevole. Un piatto è il racconto di un territorio, il piatto è un progetto etico e di sostenibilità. Una bella occasione per Taranto, una grande visibilità di ordine internazionale. All'interno del nostro piano strategico in questi anni abbiamo voluto valorizzare quelle filiere in parte identitarie, in parte foriere di innovazione, di grandi ricadute economiche sganciate chiaramente dalla monocultura industriale e il settore enogastronomico anche di eccellenza, perché noi siamo un territorio di grandi eccellenze come ricordavate, è sicuramente importante per noi. È il motivo per cui continuiamo a investire insieme agli altri partner istituzionali in avvenimenti come Ego, che hanno già dimostrato grande qualità, grande interazione con le imprese del territorio, grande richiamo anche da fuori. Taranto chiama e il food risponde. Effettivamente non potevamo esimerci vicino a un evento così importante, ma soprattutto vicino a uno dei presidi più importanti che abbiamo fatto, dove abbiamo ridato dignità ai nostri mitricoltori, alla nostra cozza, perché la cozza era buona. Tutte se l'erano scordate che la cozza aveva veramente delle caratteristiche molto particolari organoletticamente. Dunque Taranto per tre giorni si imporrà agli occhi del mondo come capitale del gusto. Laboratori e degustazioni interesseranno la pizza ma anche la cozza tarantina. Non mancheranno spin-off dedicati all'arte e al sociale e non mancheranno sicuramente i professionisti dell'Associazione Italiana Sommelier.